Il prodotto in esame oggi è un hard disk portatile della Toshiba, il modello Store e Slim. La prima cosa che salta all'occhio di questo prodotto è sicuramente il suo aspetto estetico. Stiamo parlando di un prodotto molto compatto, maneggevole e ultra portatile, tant'è vero che può stare nel palmo di una mano, ed ha il peso veramente ridotto di solo 155 grammi. L'aspetto estetico, caratterizzato dalla sua struttura molto compatta, realizzata in alluminio zigrinato nero, gli è valsa recentemente la vittoria del Red Dot Design Award. Il modello che stiamo testando in questo momento è la versione da 1TB di capacità nella sua versione in colorazione nera. Ne esiste un'altra versione da 500GB nella colorazione silver. Si tratta di un hard disk esterno con piattaforma USB 3.0, ma totalmente compatibile con la precedente versione 2.0. Essendo basato su piattaforma USB 3.0, quindi consente una velocità di trasferimento dati di 5GB per secondo. Ha un buffer di 16MB e si tratta di un hard disk da 2,5 pollici, per una velocità di rotazione di 5.400 rotazioni per minuto. Insieme all'hard disk Toshiba fornisce anche una serie di servizi ausiliari veramente interessanti. Soprattutto la possibilità di archiviare ulteriori 10GB di dati in versione cloud e di predisporre un blocco con password personalizzata per l'accesso ai dati interni all'hard disk. Ossia, senza l'ausilio di questa password da noi stabilita, sarebbe impossibile veramente accedere ai dati che noi abbiamo memorizzato all'interno dell'hard disk. Soprattutto poi questo hard disk è dotato di un software di backup automatico, ossia i dati che abbiamo sul nostro PC è possibile copiarli in modo automatico sull'hard disk. Si tratta anche di un hard disk che è totalmente compatibile con i più diffuse macchine in circolazione, tant'è vero che è compatibile sia con i dispositivi PC che con quelli Mac, sia con le piattaforme Windows che le piattaforme iOS. E' anche dotato di un software per l'accesso remoto ai suoi dati interni, ossia per mezzo della tecnologia wireless è possibile accedere ai suoi dati anche da un dispositivo mobile quale smartphone o tablet. E' anche dotato di un dispositivo mobile.